ancora buon viaggio ben trovati da firenze smart mauro ciutini traffico rallentato in a1 ci sono materiali sulla carreggiata tra firenze sud e firenze scandici in direzione di bologna attenzione alla pioggia in questo momento segnalata sia sulla firenze pisa a livorno che sulla a1 tra sasso marconi ed arezzo e ancora in a1 tra chiusi e valdichiana pedoni sulla carreggiata in direzione firenze per i traghetti ricordo quello da piombino a cavo porto ferraio la partenza era prevista alle 14 e 55 è stato annullato per le avverse condizioni meteorologiche infine ricordo che in a1 per consentire lavori di pavimentazione giovedì notte dalle 21 alle 6 sarà chiuso lo svincolo di incisa reggello in uscita per chi proviene da entrambe le direzioni è tutto grazie a regione toscana città metropolitana comune di firenze